Ferri, ti ricordi la bellissima esperienza con le tre porte, con gli tsunami, eccetera, eccetera? No, Steph, l'ho rimossa. L'hai già rimossa dalla mente, non ti è piaciuta? Sì, per fortuna, Steph, non so di cosa stai parlando, mi spiace. Ok, allora, vabbè, praticamente, anche se non te lo ricordi, sta per arrivare uno tsunami da quel mare lì, esattamente di fronte a noi. Questa è la nostra casa, sì, è fatta di lava, teoricamente fatta apposta per sopravvivere. Non ti sei neanche reso conto che da quando hai nominato da quel mare lì io ho smesso di ascoltarti, ero proprio così molto... Beh, ma non mi interessa, comunque, ti sta avvertendo che c'è un allarme, sta per arrivare uno... E mi fermi che l'ho fatta apposta io, arriva lì... Sì, che l'hai fatta apposta tu! È vero, l'ho fatta apposta io. Ecco. Arriva da lì uno tsunami, noi abbiamo la nostra casa di lava, dobbiamo finire di arredarla, di sistemarla e dobbiamo cercare di sopravvivere. La scorsa volta mi ha detto, sì, Steph, ma siamo andati troppo in alto. Stavolta stiamo in basso, e mo' sono in cavo di tuoi. E moriremo, è moriremo. Allora, mio equipaggiamento. Ok, allora, abbiamo un po'... L'assistente segreto numero due, ci ha messo le pozioni per respirare sott'acqua, secondo me ha poca fiducia in noi. Vero? Sì, te l'ho detto, cioè, ci prende sempre per più intelligenti di quelli che in realtà siamo, però vabbè. Allora, no, no, in questo caso è contrario. È un bravo ragazzo fiducioso, dai. In questo caso è contrario, ci ha messo l'acqua briefing perché pensa che afflogheremo. Quindi in questo caso pensa che falliremo. Pensavo perché avrebbe pensato che sott'acqua saremmo riusciti a sopravvivere, quindi ci dava un modo che per respirare. No, 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 questa volta pensa male. Allora ha pensato bene. Esatto, anche secondo me. Comunque abbiamo la Fire Resistance, quindi tranquilla, la lava non ti fa bruciare, quindi tranquilla, ti ci puoi appoggiare, non succede nulla di che. Ok. E cosa è successo? Non ho idea, sto facendo cose strane in chat. Non lo so. Allora, qui abbiamo gli oggetti per arredare l'interno. Guarda che bello comunque questo effetto. Sì, l'effetto è molto figa. Con il vetro, bello. La casa che ha costruito è una figata. Oggetti per arredare. Tu sai come fa a far restare la lava così? Io non ho idea. No, sto facendo. Non ci vuoi dire come si fa. Facciamo finta che noi lo sappiamo. Sì, è bellissimo. No, è bello, è bello. Dimmi. Come arrediamo? Ho dei letti in mano. Allora, ti dico il mio piano? Sì. Io partirei dal provare a salvare il giardino. Praticamente è una difesa a due strati. Prima cerchiamo di salvarci anche il giardino, perché tu devi pensare che il mondo verrà inondato. Quindi non ci sarà più il mondo. Quindi se riusciamo ad avere anche un bel giardino, comunque è meglio. Quindi proviamo a difendere il giardino e poi facciamo uno strato successivo dentro casa per almeno difenderci la casa. Ok, va bene. È una doppia difesa. Allora, per difenderci il giardino... Che hai pensato? Vai, esponi. Beh, di mettere un po' di fence. Ok. Però credo che vengano sovrastratte malamente. Ma teoricamente... Allora, non esagerare, non andrei troppo in largo, Steph. Iniziamo da qui, dal bordo della casa. Guarda, così. Secondo me. Teoricamente sono tutti che le fence bloccano l'acqua. Ok, ma il discorso è che è troppo in alto. Sì, ma, Steph, è un'onda almeno di 10 metri, quindi... Gni, 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 gni. Una fence di 40 centimetri non penso che possa aiutare. È soltanto l'inizio. Vabbè, chiudo anche qua. Boh, no. Tanto arriva dritta per dritta. Cioè, proteggiamo... Magari si sposta così. In frontale, esatto. L'obiettivo è deviarla. L'obiettivo è deviarla. Ah, ho una pala. No, cavolo, ho sbagliato un'altra fence e mi tocca toglierla a mano. Ok. Ok, poi, allora, facciamo tipo... Cosa ne so? Tipo una muraglia da questa altezza. Ok. Con sopra altre fence. Ok. Eh? La chiameremo la muraglia spugna fence. Ok. Ti piace? È una bella idea. Non penso funzioni. Nenche io. Perché retondo, vero? Te l'ho detto, questo qua è il piano se va tutto bene. Così nella vita avrai una casa di lava e un giardino. Quanto alto sei andato? Eh, boh, basta che mi segui. Basta all'incirca, ormai lo vedi, sono talmente vicino. Esatto. Forse un altro blocco? Non lo so, cara. Un altro, così. Sì, penso di sì. Vai, 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 veloce che fra un po' arriva, eh. Su, su. Ok, anche questa volta abbiamo un timer con una scadenza. Sì, otto minuti. Ok, sempre bello. Per fantasia, no? E quindi dobbiamo mettere delle fence qua per bloccare, giusto? Esatto. Perché magari questa sarà l'altezza abbastanza giusta e allora magari le fence riusciranno... Ah, lì sopra le vuoi mettere? Sì. Mi sembra una buona idea, no? Ah, mi faccio una scadenza. Te l'ho detto, è la muraglia spugna fence. Feren non capisce bene l'età. Pensavo le volessi mettere sotto le fence, capisci? No, questa è la tattica vera, bella. Guarda, hopla, hopla, hopla. Ok, io adesso metto tutta la spugna che mi avanza qua un po' ovunque per cercare di parare colpi. Però, raga, la vedo grigia. Tipo così, così, così. Quindi totalmente in giro. Ti posso dire un segreto? Dimmi. Siamo in 1.7.10. Ok? Sai che la spugna in 1.7.10 non assorbe l'acqua? È vero. Quindi questo qua in realtà è soltanto una muraglia. Quindi la devi mettere soltanto vicino alla muraglia. In mezzo al giardino non ci serve a nulla, cara. Ok. Ok. No, mi ero dimenticata in che versione stiamo. Sicuramente ho totalmente dimenticato. Purtroppo non ci darà una bella mano. Sono abituata che facciamo tutti i video con le versioni recenti. Quindi mo' stavo pensando ovviamente alla versione recente invece. Ok. Quindi non serve a nulla. Allora. La muraglia abbiamo capito. Quindi questa qua è la difesa un po' per il giardino. Dopodiché potremo mettere anche... Beh, teoricamente sarebbe però complicatissimo. Cosa vuoi fare? Che se questa muraglia comunque riuscisse a bloccare e poi andrebbe fatta una vetrata per bloccare verso l'alto. Eh, appunto. Casino incredibile. Troppa roba. Ascolta, facciamo una cosa. Ok. Io difendo un albero. Perché? Perché voglio che almeno un albero sopravviva. Ok. Non ce la faremo, eh. Io un po' di vetro qua tappare ho metto. Neanche con l'albero. Neanche avere un albero in giardino riusciremo. Ma ce la facciamo a mettere un sacco di vetri, no? Mi chiede anche già se sopravviviamo noi stessi. Figuriamoci l'albero. Magari così una parte della casa rimane tappata. Andrà malissimo, raga. Malissimissimo. Cioè siamo penosi a fare difese. Siamo davvero penosi. Ai, 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 ai. Moriremo. Moriremo. Con lo tsunami. Con lo tsunami. Ah, Steffi, lo sto facendo. Ah, mi sono... Mi ha attraverso la saliva mentre parlavo. Ticevo, sto facendo la muraglia. Hai mai notato cosa c'è in comune tra lo tsunami e Nami? Nome. Esatto. È anche un'altra cosa. Cioè io ti dico che mi stavo soffocando con la mia saliva e tu mi parli di Nami? E stai pensando a ste robe. Oh, è capitato. Ti sento e poi soffende, non rove. Allora, finiti i vetri, vero? Sì. Ok. Aspetta, continuate a fare con le spugne inutili. Vai. Togli la testa, grazie. Ok. Basta, non ho saputo fare di meglio, Steff. Beh, secondo me qualcosina comunque l'abbiamo fatta. Allora, credo che Fede quando scoprirà il piano 2.0, ovvero per difendersi in casa, non apprezzerà molto. Che vuoi fare, Steff? Prevalentemente tapparci in un bunker di ossidiana. No, va bene, va bene. Ti va bene? Non voglio essere soffocata da uno tsunami, quindi qualsiasi cosa va bene. Ma non posso mettere il letto qua, vero? Ma sei tu claustrofobico, Steff, quindi il problema è tu. Lo so, fatti. Allora, dove lo volevi mettere il letto? Non sono già felice. Credo che non possiamo... Ok. ...metterlo nel vetro. Non lo può essere attaccato. Può essere. No. Invece sì. Vero. Ma non lo puoi mettere neanche sui tappeti, Steff, eh? No. Esatto, infatti, quello lo sapevo, però ci ho provato alla disperata. Non me lo fa mettere. Vabbè. Vabbè, senza letto. A casa senza letto. Esatto. Ce la teniamo noi nel caso in cui sopravvivi la casa e poi risolviamo. Allora, pensaci tu all'arredamento, ok? E tu che fai? Boh. Come dire, Boh? Facciamo il bunker. Allora. Anzi, tappiamo la porta, no? Sì. Ok. La porta è la prima cosa che tappiamo, giusto? Eh, ma stai dentro. No, io stai poi. No, perlè, altrimenti come fai? Così. Eh. Ok. Ok. Tappata. Poi, queste. Ok. Sa chiunque che le ceste proteggono bene. Sì, sì. Assorbono l'acqua, no? Al posto della spongio, giusto? Esatto, esatto. Ok. Ok. E teoricamente siamo circondati di vetro e di lava. Abbiamo chiuso il portone, quindi teoricamente qualcosa dovrebbero riuscire a fare. Allora, riaccendiamo. Che anche qui, esatto, c'è troppo caldo. Sappiamo tutti che anche le crafting table sono ottime per ripararci. Nulla di più saggio, hai mai detto. Ok, che si fa adesso? Allora, adesso facciamo un piccolo bunkerino. Ok. Allora. Ma inizia e io continuo, perché non so come lo vuoi. Beh, una stanzina abbastanza grande, così Stef non muore di claustrofobia, capito? Ok. In realtà muoio lo stesso. Vabbè, chiudi, 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 chiudi. Che poi ci bastano i blocchi, Stef? Così, Fera, guarda, guarda. No? Eh, ma è già troppo grande, secondo me. Beh, abbiamo 64 test. No, anzi, due stack a test, Fera, siamo tranquilli. Ah, ok. Ok. Così almeno c'è un po' di spazio. Opla, opla, opla. Guarda che abbiamo molto poco tempo. Sto controllando e manca tipo un minuto, un minuto e mezzo. Oh, cavolo, oh, cavolo. Quindi dobbiamo muoverci a chiudere questo posto. Beh, tanto abbiamo finito, eh. Non possiamo fare altro. No, finisci il tetto, finisci il tetto. Ok, tranquilla. Ok, sì, anche secondo me non possiamo fare altro. Mi tengo qua le pozioni a portata di mano e anche i stecchielli, sai com'è, Stef? Non sa che serviranno, non è una buona idea. Il problema è che non vediamo. Come quando ti si allaga la casa quando piove troppo. Esatto, vai. Tu, la stecchia te. Dicevi, il problema è che non vediamo? Che non vediamo lo suono a arrivare così tappati, Stef. Io avrei fatto tipo una finestrella qua, ok? Così lo vediamo dalle finestre. Fallo. Esatto, ecco, così si vede. Malle che vada, poi buchiamo il valo alla finestra e rimettiamo l'ossidiana. Esatto. Ok, che ansia. No, ma guarda, qua vedi. Se poi si sta venendo male, continuiamo a chiudere, ok? Ok, ok, ok. Perfetto. Farea. Ci siamo? Mi sa che ci siamo. Quanto manca, niente? Ah, ti sto per dire, abbiamo la luce e mi sono ricordato che abbiamo un pavimento di lava. Esatto, quindi a posto. Sì, credo che arriverà a momenti. Dobbiamo soltanto stare qua. E aspettare la nostra fine. E aspettare con un po' di ansia. Speriamo che sopravviuva il giardino. Sta arrivando? Non lo so. Secondo te? Non lo so. Yeah, non vedo nulla. Allora, è davvero piccola la finestrella che ci siamo fatti. Se vuoi buco un altro po', eh. Non sono rischi pericolo. Vabbè, c'è da dire... No, aspetta, Steph. Aha. Vieni qua. Vedi anche tu quell'ombra? No. L'ombra strana. Ah, è la render distance troppo bassa? Può essere. Perché io vedo un'ombra che mi sembra proprio di un'ombra, Steph. Facciamo che qua... Così tanto vediamo lo stesso, no? Ok, ok, a posto. Io la vedo, Steph. Ma questo piccolo è fortissimo. Sì, è fortissimo. Rompe tutto instant. Ah, però cavolo, qua non vedo nulla. Ma quindi sta arrivando? Sì, io lo vedo, Steph. Cioè, vedo praticamente la forma in lontano. Allora, aspetta, guarda che vedo il tuo schermo. La vedi? Questa parte qua. Raga. Come fai a non vederla, Steph? Ma sei cieco? Oh, che cosa sia? La renderai distaspansa perché ho gli occhiali. Lo vedrai quando ti arriva in faccia. Allora, ovviamente mi sembra che stia iniziando da una parte molto lontana, eh. Perché lo vedo davvero in lontananza. Quindi ci vorrà ancora un po' di più. Ma sta arrivando veloce o qua ci fa aspettare? Non lo so, lo vedo fermo in questo momento. È fermo? Sì, sì. È morto, raga, è morto da un tsunami, abbiamo vinto. È svenuto, quindi, non lo so. Gigi, ce l'abbiamo fatta. No, Steph, Steph, in casa, in casa, in casa, in casa. Spostati. Guarda, la vedi? Ma ha sfondato all'improvviso? Sì. Ok, vediamo. Probabilmente non me lo caricavo perché è troppo grande, quindi vedevo solo quell'ombra lontana. Allora, ha bucato lì, però a me sembra che la casa non sia stata presa. Ok. Aspettiamo ancora un minutino, va. Certo. Aspettiamo ancora un minutino. Cioè, dici che secondo te la lava è così forte da proteggerci da uno tsunami? Sotto di noi, cioè, lì può non aver caricato, ma sotto di noi c'è ancora lava, non c'è acqua. Ok. Quindi, teoricamente, la casa di lava potrebbe averci salvato da uno tsunami di quelli altissimi. Beh, noi poi ci siamo anche riparati bene qui dentro, quindi abbiamo preso tutte le precauzioni, provvediamo. Aspetta, aspetta, no, 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 Steph, mi sembra che stia salendo il livello dell'acqua, non ne sono sicura. Cosa? Vuoi provare a uscire, non lo so. No, beh, adesso mi hai messo ansia. Aspetta, dai, proviamo. Ok. Questo piccone spacca tutto. Vieni qua. Ok. Ok, guarda dietro, Steph. Ma quello non è ancora arrivato. Esatto. Tornate il barco. Pensavo come sei arrivato. Mi sembrava troppo basso. Quella, vedi, Steph, era l'ombra che io vedevo in lontananza, quindi c'era arrivata solo una piccola parte di inondazione, non c'era ancora arrivato tutto, cavolo, Steph. Ok, allora, adesso, adesso lo sto vedendo, adesso si sta avvicinando. Beh, ora sì, non è più un'ombra, è proprio così bello e maestoso, Steph. Che si fa? Ma come è arrivata allora questa prima acqua? Cioè, che cos'è quest'acqua che è arrivata? Penso, non lo so, forse fa l'onda, capito? C'è arrivata una parte di onda e poi tutto lo tsunami. Aspetta, no, io però voglio vedere, Steph. Fede? Dai, sono coraggiosa, non mi rompere. Quanto manca? Ok, ok, ok. Allora. Si è alzato il livello del mare, ci sta arrivando un'altra onda piccola, perché la vedo arrivare, e in più ci sta arrivando tutto il maremoto, Steph. No, vieni a vedere. No, no, vieni, vieni. Vedi un'onda più alta. Fede, guarda che se arriva io, paura che entri, eh. Dici. Eh, temoni sì. Dici. Ma quella grande, tra quanto vuole arrivare? Quella grande è praticamente all'altezza del nostro recinto di spongi, che è totalmente inutile. Ma a mio favore, chiudi e stai ferma. Allora, è arrivata... Cioè, la vedi l'altra onda? E togliti la tua testa! Ma voglio dire anche io. Ok. Ok. Sta arrivando. Sta per siverare il vetro. Pef. Ha congelato i vetri, vero? Ha congelato i vetri. Oh mio Dio. Ok. Però è la cosa più importante che guardi sotto. Se sotto non si trasforma in lava, teoricamente non succede neanche nel soffitto. Ok. Se non succede nel soffitto, noi siamo salvi. Comunque all'interno io non vedo acqua, ma noi non vediamo più nulla perché le finestre sono congelate. Teoricamente in questo momento noi siamo completamente sommersi d'acqua, ma stiamo sopravvivendo? Sì. Una roba del genere, no? Dovrebbe essere, perché ti ripeto, allora, l'onda più grande, quindi la più pericolosa, era l'altezza del nostro recinto, che non è poi così lontano. Ok. Nel mentre che chiacchieriamo sicuramente sta già sopra. Ho paura di uscire. Oh, però per ora, io vado. Non ho voglia di fare la fifona come te, Steph. Ti seguo. Allora, i vetri sono tutti congelati. Tutta la casa, guarda, dietro, dietro. Ma sai che non credo che siano congelati? Penso sia proprio l'effetto dell'acqua che scorre. Beh, non lo so, non lo so, però gli ha proprio cambiato sto colore. Sono diventati bianchi anziché rossi. Ok. Guarda, Steph, qua, 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 qua. Sì, vedi? La casa è praticamente inondata. Adesso sta finendo di inondare, vedi? Sì. Però il soffitto ha retto. Mi sa proprio di sì. Sì. Ok, allora... Sa dove l'onda gigante? No, l'onda gigante sta sopra di noi. Cioè, guarda qua. La vedi? Ma ci ha superato o no? Non lo so. È difficile da dire da qui dentro, però secondo me... A me sembra che si stia muovendo in questo momento, Steph. Esatto, anche secondo me. Mi sembra che sia qui, raga, dove c'ho il cursore. E quindi in questo momento sta passando sopra la nostra casa. Sì, sì, esatto, esatto. Anche a me sembra quello. Vero? Sì, assolutamente. C'è roba che tipo tra 30 secondi ci abbiamo perfettamente sopra la testa. Sì. Eh, ok, ma siamo sopravvissuti? Credo di sì. Il giardino è andato. Cioè, non abbiamo un giardino. Il giardino non è servita una ceppa. Proprio completamente utile. La cosa però, dai, è stata utile anche senza il nostro bunker, quindi direi che è una cosa ottima. No, beh, almeno abbiamo un sacco di spazio dove vivere, è già qualcosa. Ho paura però di andare a vedere il giardino. Allora, dietro si sta inondando solo la parte, quindi non lo so se vuoi uscire in questo momento, Steph. Sta aumentando il livello. Esatto, sono una buona idea. Allora. Non lo so, sono un po' titubante. Allora, non abbiamo nulla per distruggere le tue bellissime crafting table. Allora. Quindi tocca starci lì due ore. Io vado, Steph. Perché non abbiamo una cetta. Mi sa che mi bevo la pozione e usciamo. Io ne avevo già bevuto una preventiva perché avevo poca fiducia di noi, però mi sa che è scaduta, quindi adesso me ne bevo un'altra. No, bevuta, bevuta. Ok. Ok. Ok, l'acqua sta iniziando ad entrare, vero? Sì, assolutamente. Allora, fatemi bere la pozione anche a me. Ok. Pronta? Sì. Andiamo. Ok. Ah, sto piccolo distrugge tutto. Vai, 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 vai. Ok. Guarda, Steph, la casa dall'alto! Allora. È totalmente sommersa. Sommersa. Guardate. Ma probabilmente non riesco neanche a uscire fuori, è troppo grande sto tsunami. Io al pieno pieno ci sto riuscendo. Cioè, e qui davanti, Steph, c'è l'onda, la vedi che sta ancora andando? Ha appena superato la nostra casa, è una figata sta roba. Guardate, sono arrivato tutto su. Wow. Quanto ci vuole? Cioè, il mondo è sommerso e abbiamo lo stesso una casetta. Sì. Beh, potrebbe diventare la casetta di SpongeBob sott'acqua, no, Steph? Di lava, non è proprio come il cattore, ma va bene. Pensa che tortura, stai sott'acqua e c'è pure caldo. Cioè, non è una buona così nella vita. Comunque, oh. Ha fatto il suo lavoro sta casa di lava, Steph. Guardala, totalmente inondata da queste parti addirittura l'acqua è piccicata. Qua esatticamente è spettacolo. Sì, bellissimo, è stato bellissimo. Cioè, l'effetto è bellissimo. Fantastico. Allora, torna dentro, perché qua abbiamo inzuppato tutto. Ovviamente. Quindi adesso dobbiamo ritappare e sperare che l'acqua scompaia da sola. No, ho qui i secchielli. Oppure abbiamo i secchielli, certo, però. Aspetta, aspetta. Secchielli. Dai, con un po' di secchielli secondo me ce la si fa. Abbiamo fatto una scemenza qua, Ferre, mi sa. Vabbè, che t'aspettavi uscire. Però come potevamo uscire? Abbiamo fatto una scemenza. Riusciamo a levarla? Mi sta di no. Abbiamo tanti secchielli, eh. Anche poi mi sta dando tsunami bucket, invece che l'acqua normale, perché l'acqua è uno tsunami. Ferre, no, è finita. Abbiamo rovinato tutto, aprendo. Vabbè, Steph, troveremo un modo di togliere l'acqua. Questo è il modo. Ti fai un pavimento. In vetro, ci sta. E in ossidiana. Non ho vetro. Così. Ho un po' di ossidiana, però, quindi va bene. Quindi abbiamo soltanto alzato il livello della nostra casa. In ogni caso, ci fermiamo così. Da dentro la nostra tsunami lava house. È stata una bella prova, è stata divertente e ha funzionato. Non pensavo che avrebbe funzionato, sinceramente. Ma io pensavo l'avrebbe distrutta. Pensavo ci avrebbe distrutto travolta e massacrato, però ce l'abbiamo fatto. Siamo sopravvissuti. Qua sotto, come sempre, compariamo altri video. Iscriviti al canale, cliccate il campanellino e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao.